E' passato qualche anno da quando avevamo consigliato iRobot, l'azienda che produce i robottini per le pulizie di casa, il famoso Roomba. All'epoca le azioni di iRobot valevano meno di 20 dollari e negli anni sono arrivata a valere anche 120 dollari circa. Un bel rialzo che ci ha portato bei guadagni. Ed è notizia di pochi giorni fa che iRobot è stata comprata niente po' di meno che da Amazon. E questa notizia ci ha dato un bel input molto interessante ovvero ok come possiamo trovare e dove troviamo un'azienda specializzata nella automazione, nei robottini che ci potrà dare dei guadagni da qui ai prossimi 10, 15, 100 anni. Amazon ci ha fatto ragionare molto a riguardo perché voi sapete che Amazon ha un reparto automazione, Amazon Robotics, con cui automatizza tutti i suoi magazzini. Probabilmente anche tu hai sentito delle notizie riguardo ai magazzinieri sfruttati da Amazon che devono rispettare certe tempistiche e hai sentito delle notizie riguardo proprio al fatto che ormai in molti magazzini di Amazon si vedono questi robottini andare a destra e a sinistra con i pacchi. Una bella soluzione che toglie del lavoro a delle persone ma toglie un lavoro che è sempre nobile come tutti i lavori ma è anche molto ripetitivo e molto estenuante. L'automazione è il futuro, non ci possiamo fare niente a riguardo e sotto certi punti di vista se troviamo altri lavori è anche una bella cosa. Ma se quando guardiamo Amazon ci sembra normale vedere un magazzino tutto automatizzato, in realtà dobbiamo sapere che oltre l'85% dei magazzini nel mondo non ha nessun tipo di automazione. Stiamo parlando di un mercato gigantesco che può superare i 200 miliardi e che ha una stima di crescita pari al 15% l'anno. Secondo quello che ci dice il centro di ricerca di The Logistic IQ è un'opportunità gigantesca ed è un'opportunità anche per le aziende che hanno i magazzini. Non parliamo solo quindi di groceries o di e-commerce ma anche aziende che montano macchinari e che hanno il loro magazzino. Infatti gli studi ci dicono che grazie a questo genere di automazioni queste aziende possono risparmiare il 50% o più dei costi di gestione del proprio magazzino. Costi che per la maggior parte sono dovuti proprio alla mano d'opera. E se Amazon è sempre un'azienda fighissima su cui investire al suo reparto Amazon Robotics, investire in Amazon vuol dire investire in mille cose dal cloud, dall'e-commerce eccetera eccetera. Noi invece vorremmo trovare un'azienda specializzata che fa solo questo, che produce solo robottini per magazzini. Un mercato grosso, un mercato in crescita ma un mercato che non è certo privo di concorrenti. Parliamo di fornitori come Daifuku, giapponese, leader dei sistemi di automazione dei materiali dal 1937 e che ha uffici in oltre 26 paesi. Parliamo di Knapp, tedesco, uno dei leader mondiali della logistica e dell'automazione dei magazzini, con oltre 4.500 dipendenti e 43 sedi in tutto il mondo. Parliamo di Vanderlande dei Paesi Baschi, il quarto fornitore mondiale di sistemi di movimentazione dei materiali. E parliamo di TGV Austriaca, che pianifica e implementa centri logistici altamente automatizzati a prova di futuro. Ma l'azienda che abbiamo individuato è un po' più piccola, con delle innovazioni molto interessanti, ma te la svelo solo se ovviamente schiaccerai il pulsante mi piace a questo video. Ti iscriverai al canale cliccando la campanellina per rimanere sempre aggiornato perché io faccio un lavoro e ti spiego delle cose a gratis, tu in cambio fai questo così aiuti il canale a diventare un po' più virale e a fornire questi contenuti a persone che effettivamente possono essere interessate. Detto questo, ci vediamo dopo la sigla. L'azienda di cui vi voglio parlare in questo video si chiama Autostore Holdings. E finalmente non andiamo né in America né in Asia, ma restiamo in Europa. In particolare vogliamo in Norvegia. Autostore Holdings è specializzata nello stoccaggio automatizzato cubico. Che sembra una supercazzola ma in realtà è molto molto intelligente, infatti crea dei sistemi cubici alti fino a 5 metri e mezzo modulari in cui girano dei robottini che vanno e vengono su dei binari e che inseriscono e raccolgono il materiale da dei cestini. Questa soluzione è molto precisa ed è ad alta densità e soprattutto è modulare, si può adattare a tutte le strutture. E non solo, puoi partire da strutture piccole e piano piano puoi attaccare nuovi cubi, aggiungere nuovi robottini e scalare il tuo magazzino in termini di automazione. È la soluzione più densa del mercato e questo scopriremo è molto importante. Abbiamo già capito che uno dei costi più importanti nella gestione dei magazzini è proprio la manodopera e in particolare, secondo Autostore Holdings, il 63% dei costi della gestione di un magazzino è proprio portare i prodotti, i materiali sugli scaffali e andargli a prendere dagli scaffali per portarli al centro dove vengono utilizzati o impacchettati. Autostore si considera il leader indiscusso dello stoccaggio cubico in termini di installazioni con a giugno 2021 667 installazioni in tutto il mondo, rispetto a 15 installazioni di altri importanti player di mercato come Okado e Atta Botix. La maggior parte delle installazioni delle soluzioni di Autostore è nell'Emea ed è pari al 62% di tutto il fatturato, con la sola Germania che rappresenta il 25%. Ma abbiamo anche un buon 18% nei soli Stati Uniti. Un'azienda che è ovviamente concentrata in Europa ma che ha già messo piedi in giro per il mondo. La modularità di questa soluzione permette a Autostore di avere degli introiti abbastanza costanti anche in un periodo recessivo come quello che stiamo vivendo. Infatti essendo modulabile un'azienda può fare un piccolo investimento iniziale e poi senza nessuna paura espandere il proprio investimento e la propria automazione con calma nel futuro. E recentemente ovvero il 18 agosto l'azienda ha fornito un nuovo report sul secondo trimestre dell'anno con dei dati molto interessanti. Nel secondo trimestre dell'anno infatti Autostore Holdings ha fatturato più di 165 milioni di dollari, un aumento di oltre il 93% rispetto al secondo trimestre del 2021. Il margine EBITDA è andato al 42% rispetto al 50% previsto. L'acquisizione di nuovi ordini è stata costante circa a 161 miliardi rispetto all'anno scorso, nello stesso trimestre. E l'azienda prevede un fatturato finale per il 2022 di 550-600 milioni di dollari e una crescita nel 2023 tra i 700 e i 800 milioni di dollari. Ottimi numeri che si sposano con una strategia e una soluzione efficace. Infatti tra i tanti clienti di Autostore abbiamo sicuramente gli e-commerce che sono un mondo ancora in forte espansione. E sono in forte espansione anche i servizi di delivery di consegna nello stesso giorno dell'ordine e della micro delivery che vuol dire una cosa molto importante. meno magazzini o magazzini meno grossi fuori dalle grandi città e tanti piccoli magazzini all'interno delle città. Magazzini che però devono essere super compatti perché il costo di un magazzino, di uno spazio all'interno di una città è molto più grande rispetto a un magazzino fuori città. E questo aumentare di costi sicuramente va a impattare sulla redditività dell'azienda e dell'e-commerce. Quindi una soluzione come Autostore molto compatta che può sfruttare in maniera cubica tutto lo spazio e dove non devi avere dei corridoi per prendere le cose dagli scaffali perché è tutto compresso e una soluzione ottimale per questo nuovo trend di delivery. E a tutto questo uniamo una volontà dell'azienda all'innovazione, al coprire nuove fette di mercato. E il focus lo metterei soprattutto su due punti. L'azienda sta cercando di creare un pay per pick, quindi paga per ogni articolo preso dal robottino. Questo aiuterà nuove aziende a entrare in contatto con Autostore Holding e a acquistare i suoi servizi perché ci sarà un costo di entrata minore perché l'azienda pagherà molto meno per l'installazione e non pagherà niente ma pagherà per servizio. Quindi molti nuovi clienti che hanno paura di fare un investimento iniziale grosso e per Autostore si parla di un nuovo stream di revenue di entrate ricorrente perché non pagherà solo l'installazione ma per ogni lavoro che farà il robottino. E a questo aggiungiamo anche che Autostore sta finalizzando la parte di stoccaggio refrigerato. Quindi andrà a aggredire una nuova fetta di mercato, ovvero le groceries che hanno bisogno di avere sia automazione ma hanno anche bisogno di avere reparti frigo. L'azienda ha già dei clienti portanti, parliamo di Siemens, e in America, anzi per essere precisi, in Canada sta acquisendo anche Decathlon che ha installato nel suo primo negozio i sistemi a stoccaggio cubico di Autostore. Ma ovviamente non è tutto oro quel che luccica, ci sono dei problemi. Uno tra tutti è la battaglia legale iniziata da Autostore ma poi si è rivoltata contro, contro Ocado, che se non la conosci, ma se sei stato a Londra forse hai visto i suoi forconcini, è un'azienda leader di groceries, di reparto delivery in Inghilterra proprio. Anche lei impegnata nell'automazione dei magazzini ma soprattutto con clienti groceries per l'appunto. Questo potrebbe essere un problema perché se perde la battaglia legale dovrà pagare un po' di milioni di euro che sicuramente inficeranno l'utile. Non troppo ma lo inficeranno. Altra cosa importante da notare è che c'è stato comunque un rallentamento dell'acquisizione di nuovi clienti rispetto alle aspettative e ci sta in un momento di recessione. Ed è proprio qua tra l'altro che si creano le occasioni giuste di mercato per acquistare azioni a sconto. Detto questo, le quotazioni dalla IPO sono scese di oltre il 50%. E finalmente iniziamo a vedere prezzi molto interessanti per pianificare un piccolo piano di accumulo e entrare in questo mercato molto interessante. Un investimento che ovviamente è rischioso. Parliamo infatti di un'azienda tecnologica che sta crescendo nel fatturato ma che ha visto solo in questo secondo trimestre del 2022 il primo utile dopo tanti tanti anni di lavoro. Se aggiungiamo la parte legale e questo periodo recessivo di incertezza ovviamente non possiamo definire questa operazione e questo acquisto privo di rischi. Quindi anche noi destineremo una piccolissima parte del nostro patrimonio a questa operazione. Secondo me il prezzo giusto di questa azienda si aggira intorno alle 17 corone ma ovviamente dato i rischi mi piacerebbe acquistare questa azione con almeno un 25% di sconto e proprio in questi giorni l'azienda è scesa sotto le 14 corone quindi ho fatto la mia prima e piccolissima operazione ma mi riservo di mettere la parte più grande dell'operatività quando il prezzo raggiungerà circa le 12,5-13 corone cosa che potrebbe succedere tra l'altro proprio nei prossimi giorni se i mercati continueranno a scendere. Ovviamente mi aspetto che l'azione possa scendere anche di più e magari farà un altro piccolissimo acquisto. è un'azione ovviamente da mantenere in portafoglio nonostante magari ulteriori discese e aspettare un po' di anni e togliere ovviamente il proprio investimento se vediamo condizioni di mercato nuove e informazioni importanti che ci fanno appunto desistere dal nostro investimento. Ovviamente l'analisi di questo video è tutto tranne che completa ma spero di avervi dato alcuni spunti di riflessione per farvi la vostra analisi le vostre ricerche e magari partendo proprio da questo video mi raccomando metti mi piace ci vediamo nei commenti dimmi cosa ne pensi e soprattutto ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.